Benvenuti, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale dell'arte. Questa volta mi ha raggiunto di nuovo Francesca Grazioli, bentornata. Bentornato a te, buongiorno a tutti voi. Credevo che ti fosse stato usurpato il trono da Federica Basini. E invece sono tornata a riprendermelo. E di che cosa ci parli? Vi parlo di una bellissima mostra che è in corso a Palazzo Strozzi a Firenze, quella di Bilviola, rinascimento elettronico. In occasione appunto di questa mostra, che sarà in scena fino al 23 luglio, una celebre videoinstallazione dell'artista sarà esposta al Museo della Collegiata di Empoli. Stiamo parlando di Sharon, che rappresenta una figura femminile ripresa dall'alto, immersa nell'acqua, con gli occhi chiusi e in una suggestiva atmosfera di sospensione del tempo e dello spazio. Lo spettatore viene così come avvolto e diventa parte dell'opera, come se anche egli fosse immerso nell'acqua. Artisti internazionali anche a Mantua, dove il rinascimento italiano incontra la Cina contemporanea nella quattrocentesca casa del Mantegna. Con la mostra Wu Je Unbounded, ovvero sconfinato infinito, fino al primo maggio dieci pittori cinesi di rilevanza mondiale dialogheranno con gli eccezionali spazi della dimora di uno dei padri dell'arte italiana. Gli artisti in mostra appartengono a tre generazioni distinte, ma ad accumunarli c'è la scelta di recuperare un legame con le proprie radici. Un itinerario attraverso le differenti generazioni a dimostrazione che né la rivoluzione culturale, né le migrazioni e la globalizzazione hanno intaccato i nuclei primari della cultura artistica cinese, ancora presenti e vitali nella produzione contemporanea. Conosciamo meglio la Camera degli Sposi di Andrea Mantegna, uno dei luoghi che ospitano la mostra. A partire dal 1465, Mantegna esegue per Ludovico III Gonzaga una stupefacente decorazione del torrione nord del castello di San Giorgio. Grazie all'uso illusionistico della prospettiva, il pittore restituisce all'interno di una stanza cubica l'idea di un loggiato aperto. Sfruttando al massimo le uniche superfici reali, i peducci della volta e le cornici dei camini, riesce ad allestire alcuni episodi celebrativi della casata, relativi all'elezione a cardinale di Francesco Gonzaga, figlio di Ludovico. Sulla parete nord è raccolta la corte di Ludovico mentre riceve la buona notizia dal messaggero. I personaggi, caratterizzati con grande attenzione, poggiano sulla cornice del camino e sono intervallati da finti tendaggi, in un gioco di rimandi tra spazi reali e spazi dipinti. Nella parete ovest il marchese incontra il cardinale, mentre alle loro spalle si apre un paesaggio idealizzato con alcuni monumenti romani. Al centro della volta si trova un finto parapetto con personaggi scorciati che si affacciano. Con i putti, il pavone e il vaso in bilico, l'illusione spaziale raggiunge la massima espressione. E dalla dimora dei duchi di Mantova alla Venaria Reale di Torino. È stato presentato lo scorso sabato il laboratorio per bambini e famiglie Disegniamo l'arte, ideato in collaborazione con l'associazione Abbonamento Musei Torino-Piemonte. I bambini potranno fare una passeggiata nei giardini della Reggia per scoprirne la storia e per osservare forme e colori della natura. E dopo aver conosciuto questi luoghi reali, potranno poi scegliere una porzione di paesaggio da disegnare prima nei giardini en plein air, per poi completare il lavoro in un secondo momento con matite e colori creati con elementi naturali durante la loro visita alla Reggia. E rimaniamo sempre nel magico mondo dei bambini parlando della favola di Pinocchio, che è diventata un particolare punto di unione per il lavoro di artisti provenienti da Stati Uniti, Giappone e Italia. Sarà infatti inaugurata il 9 aprile al Parco di Pinocchio, a Collodi. L'esposizione è permanente di sei grandi statue in pietra serena, realizzate la scorsa estate durante il primo simposio internazionale intitolato Scultori in Cava. Le sei sculture sono opera di Simone Azzurini, Kelly Borsheim, Mariano Guerrieri, Kumiko Suzuki, Massimo Villani e Silvio Viola. Chi visiterà il parco si potrà sedere accanto al Pinocchio che dorme e che sogna sotto i lecci, oppure immedesimarsi nel burattino di Collodi, accomodandosi fra due carabinieri dai baffi arcigni. E i bambini sono protagonisti anche della nostra proposta letteraria. Con Il Segreto del Figlio, edito da Feltrinelli, l'autore Massimo Recalcati, lavora sulla fisionomia psichica dei figli nel mondo di oggi, mettendo a confronto due figure mitiche di figlio, quella dell'edipo di Sofocle e quella del figlio il prodigo della parabola lucana. Un figlio è un'esistenza unica, distinta e irriducibile a quella dei suoi genitori, spiega Recalcati. Contro una falsa pedagogia, i figli hanno diritto di custodire segreti e desideri lontani da quelli dei genitori. Andiamo a sentire. E' solo l'atto del padre, del perdono, che rende possibile a questo figlio riconoscersi come figlio. Questo è centrale. Questo è il dono più grande. E' il dono della possibilità, diciamolo in termini laici, io vedo in questo dono il dono della possibilità di ricominciare. Quello con cui Lacan definiva l'esperienza dell'analisi. Io lo ripeto spesso questo. Una volta chiesero a Lacan a cosa serve un'analisi, a cosa serve una psicanalisi, e Lacan rispose in modo molto semplice, in modo molto preciso. Una psicoanalisi serve per ripartire, cioè per ricominciare, cioè per risorgere. Un'ultima cosa prima dell'ultima lettura di Federica. Beh, il viaggio è pieno di insidie. Ma il viaggio, per come io l'ho letto in questa grande metafora del figlio, è il luogo del segreto. È il luogo del segreto. Dove c'è esperienza. Dove un figlio può fare esperienza. Ma dove noi facciamo esperienza. Facciamo una autentica esperienza. Come negli incontri d'amore, per esempio. Dove noi facciamo, o negli incontri che aprono la conoscenza, nell'incontro con un amore, nell'incontro con un maestro, nell'incontro con noi stessi. Quando noi facciamo davvero una esperienza, è perché noi ci disarmiamo. Il disarmo, il disarmo dalla corazza dell'io, è la condizione fondamentale per fare esperienza della verità. Come se ci togliessimo gli occhiali. Come se ci incamminassimo senza occhiali su un trampolino. Come se spiccassimo il volo dal trampolino. Il tema familiare è trattato anche nella proposta cinematografica di oggi. È tratto da un libro di Eric Emanuel Schmitt, rappresentato anche a teatro. Dal 6 aprile esce al cinema Piccoli crimini coniugali. Si tratta di una pellicola che punta molto sulla bravura degli attori chiamati a interpretare una coppia sull'orlo del collasso. I due protagonisti sono Margherita Bui e Sergio Castellitto e ingaggiano un vero corpo a corpo in cui mentono, rinfacciano, accusano, mettendo in questione il matrimonio e la coppia. Andiamo a vedere il trailer. Che cosa è successo la sera che sono caduto? Perché io non riesco a ricordare. Tu mi ami. Io ti ho amato molto. Tu sei gelosa. Tu non sopporti l'idea che io possa toccare un'altra donna. Tu ti diverti a torturarmi. Tu devi dirmi la verità. Devi dirmi la verità. Mi stai mettendo. Anche tu, anche tu mi stai mettendo. Fattene via! C'è qualcosa che non torna nel racconto. Che cosa è successo l'ultima sera? Perché io non riesco a ricordare? Perché non riesco a ricordare quel momento cazzo? Forse perché ti conviene, sai? Passiamo ora al teatro. Il premio Riccione per il teatro compie 70 anni. Il più longevo concorso italiano di drammaturgia torna per la sua 54esima edizione con un nuovo premio speciale per l'innovazione drammaturgica insieme al dodicesimo premio Riccione Pier Vittorio Tondelli riservato agli autori Under 30. Aperte fino al 5 giugno le iscrizioni. L'opera originale deve essere in italiano o in dialetto e la proclamazione dei vincitori avverrà il 23 settembre. Sostanziose anche le cifre per i finalisti ovvero 15.000 euro il premio principale e 10.000 euro quello per gli Under 30. Un uomo che è riuscito a toccare tutte le sfaccettature della recitazione e dell'umorismo è stato senza dubbio Antonio De Curtis in arte e totò. Il 15 aprile ricorreranno i 50 anni dalla scomparsa del Principe della Risata e l'Università degli Studi di Napoli Federico II sotto la proposta del grande Renzo Arvore ha deciso di conferirgli la laurea honoris causa alla memoria in discipline dello spettacolo. È dall'Ateneo, fra i più antichi d'Italia e del mondo un riconoscimento per avere incarnato e portato sullo schermo tutte le articolazioni dello spettacolo dalla mimica alla comica che gli riuscivano particolarmente spontanee a quella teatrale cinematografica acquisite da una lunga esperienza personale che Totò ha vissuto e saputo catturare. Sentiamo la dichiarazione del presidente della Campania Vincenzo De Luca al riguardo. Una personalità del mondo dello spettacolo che ha condiviso il destino di tanti nel mondo dello spettacolo in Italia quello di essere onorato ed apprezzato dopo la morte come sapete quando era in vita c'erano molti ambienti soprattutto radical chic che guardavano a Totò come a un personaggio minore gli anni ci hanno aiutato a scoprire la grande umanità ma anche la grandissima arte di Totò è dunque un gesto doveroso quello della Federico II che si aggiunge ad una iniziativa che abbiamo promosso come regione con la RAI per ricordare nel suo anniversario questa grande figura una bella giornata una delle immagini positive di Napoli del sud dell'Italia Da un'icona dello spettacolo italiano a un'altra importantissima figura della nostra cultura da poco è arrivata notizia che il grande compositore Ennio Morricone ha accettato di aggiungere una seconda data è arrivata al concerto in programma in agosto all'Arena di Verona 30 e 31 saranno quindi giorni conclusivi della tournée mondiale di The 60 Years of Music World Tour con cui Morricone festeggia il sessantesimo anniversario come compositore e direttore d'orchestra che l'ha portato recentemente a esibirsi in 30 città europee davanti a quasi mezzo milione di persone Andiamo ad ascoltare alcuni secondi della sua meravigliosa musica tratti proprio dal concerto dell'Arena di Verona del 2002 Grazie a tutti 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 Grazie alla prossima edizione del nostro telegiornale Arrivederci Grazie a tutti